basta diamo spazio al main event Daniele ciao Michele buonasera buonasera grazie dell'invito innanzitutto e grazie insomma a tutti quanti quelli che ci seguono buonasera a tutti voi all'Italia allora io prendo spunto da quello che ci dicevamo fuori onda in realtà era la mia chiusa cioè io pensavo alla chiusa con questa domanda però il bello di queste chiacchierate a ruota libera è che non ci sono regole sono no limits quindi abbiamo discusso un po' della situazione italiana di come va il wrestling in Italia se i fan stanno rialzando la fiamma oppure se insomma sono momenti in cui bisogna serrarsi come al fosso di elm e resistere la domanda è non è che tu mi hai indotto a parlare di queste cose perché sotto sotto quel vecchio progetto di un ritorno in Italia con una scuola con un futuro nel tuo paese con un tricolore che sventola ancora più forte ce l'hai in testa? No 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 non te l'ho chiesto per questo perché comunque seguo sempre il mio paese quindi mi piacerebbe sempre vedere un giorno l'Italia più amante del wrestling in generale ma non parlo solo di fan perché i fan che seguono il wrestling lo amano se no non lo seguirebbero io parlo proprio del diciamo il rispetto che ha il professional wrestling nel generico nel generale oggi vedevo per questo che mi ha entristito un po' la cosa e te l'ho chiesto vedevo un programma e c'è Maccio Capatonda che fa finta di fare wrestling con un'altra persona un video ma forse anche vecchio tra l'altro a lol se non sbaglio questa cosa mi ha molto entristito perché è l'immagine che ha il wrestling nel nostro paese completamente sbagliata quindi mi chiedevo se in Italia ci sia stato un miglioramento per quanto riguarda anche la conoscenza del wrestling a livello del fan medio indipendentemente dai fan che già seguono wrestling che magari conoscono benissimo le news se ci sia leggermente più rispetto essendo passati molti anni e comunque essendo anche sia in chiaro su Discovery adesso poi c'è anche l'AW adesso c'ho più wrestling da vedere più wrestling da vedere sinonimo si può capire un pochino di più cos'è veramente il wrestling rispetto a quello che era un tempo allora hai citato Maccio Capatonda io so che tu non ti fai problemi a dare opinioni pareri ma non lo conosco quindi no no però di recente altri lottatori sono andati ospiti da Cattelan con Maccio Capatonda ti racconto la scena e tra l'altro lottatori importanti eh li ho visti sono conosciuti li conosco anch'io loro entravano quindi vestiti da lottatori e Maccio Capatonda doveva inventare il loro nome e ovviamente sparava dei nomi assurdi il più stupido possibili i lottatori non hanno fatto brutta figura perché avevano i fisici erano imponenti erano vestiti bene cioè erano professionisti o quasi della disciplina per come lo si può essere in Italia queste cose secondo te aiutano o tu di fronte a 500 euro di apparizione boh buttiamogli una cifra caso avresti comunque il polso fermo per dire no aspetta anche se ne ho anche se ne ho bisogno anche se poi me la posso tirare sui social direi comunque di no a prescindere allora è facile dare un giudizio diciamo dall'esterno però in realtà essendoci passato per primo perché queste offerte mi furono fatte e sono state accettate quindi lo dico da diciamo colpevole tra virgolette nel lontano 2010 2011 io capisco sono anche esperienze divertenti e che aiutano come anche come esperienze di vita e capisco che quando si mette le visioni è sempre difficile dire no a uno spazio comunque che ti dà grande visibilità è sempre difficile a distanza di anni e col seno del poi fondamentalmente innanzitutto non mi hanno portato a niente cioè non mi hanno dato nulla in più di quello che non avevo già prima di quello che potevo prendere con o senza le televisioni e in più magari ti sei messo non voglio dire il ridicolo perché non è il ridicolo però da parte di chi fa il programma o di maccio capadonda c'è sempre la voglia di ironizzare sopra il prodotto e non è corretto perché metti in difficoltà magari un ragazzo che magari ha come passione quella di fare lottatore di presti non è sei un po in difficoltà faccio un esempio scemo come una ascensore quando devi aspettare il tuo piano e nessuno parla c'è un po quella quell'atmosfera di timidezza non si sa mai che dire tutti chiedono cose generiche la vedo un po così la vedo come sei un po fuori luogo mettiamola così differente se vai invece in un programma e ci vai trattato da lottatore professionista e magari fai un'intervista all'interno come magari fatto al David Letterman Show e poi per simpatia così magari fai una mossa presentatore però hai già uno status hai già un nome secondo me non aggiunge niente al wrestling non fa capire cosa è il wrestling purtroppo purtroppo perché il wrestling avrebbe bisogno di molto più spazio ma la colpa non è dei ragazzi minimamente i ragazzi giustamente hanno una possibilità del genere televisiva e cercano di sfruttarla è anche comprensibile a livello umano è un po meno rispettabile da parte di maccio capatonda della situazione non maccio in sé o dei presentatori o di chi propone questo tipo di cosa voler per forza prendere in giro come su una paperissima sprint e secondo me il wrestling non è così perfetto visto che c'era questa questo link io ho preso la palla al balzo e subito sono andato con una catapulta infernale pronto ad insaccare però ora mettiamoci più comodi qui vogliono sapere se torni e quando torni a combattere in italia o in svizzera visto che di recente sei stato anche in rivalità con bel tasar tra l'altro voglio aggiungere questo prima di sentire la tua risposta mi sono accorto seguendo la vostra rivalità quanto sia difficile malgrado l'era di internet che ci unisce che riduce le distanze vivere il wrestling con protagonisti italiani o amici dell'italia quando è così distante cioè la visceralità ce l'hai davvero tanto se riesci a partecipare se riesci ad esserci se riesci in qualche modo a dire posso andarci cioè il farmi raccontare la vostra battaglia anche tutte le cose fantastiche di bel tasar in america con jim cornette i viaggi nei parchi eccetera ma l'essere così distante poi dal match reale cioè lo l'ho pesata cioè mi è pesata cioè ho detto cioè non l'avrei voluta vivere meglio dico la verità ed è colpa mia chiaramente non potevo essere lì per quanto siano stati fatto promo abbiamo cercato comunque di spiegare a livello video e tramite social il il come è stata costruita la rivalità da un anno in realtà da novembre scorso dove sono tornato venuto io per la prima volta svizzera ho vinto il titolo poi a maggio l'ho ridifeso contro gianni valletta e poi il culmine dove bel tasar lo rivinceva è difficile comprenderlo così a distanza quindi sono d'accordo con te ma non è un demerito di chi guarda i video è proprio è normale che voglio dire che a te a lui a mambo italiano cioè vi si vuole bene ma purtroppo è complicato seguirvi nel percorso indie perché fate tante cose io ti seguo sui social sei di qui sei di là hai l'atleta blasonato ma c'è veramente quella distanza che fatichi a colmare c'è un detto da noi lontano dagli occhi lontane dal cuore e oppure c'è una canzone bellissima di domenico potugno che si chiama la lontananza e dice e la lontananza è come il vento spegne i fuochi piccoli accende quelli grandi e il significato secondo me chi veramente vuole seguirti ormai con i social trova il modo chi è veramente eh amante del lottatore chi sostiene veramente il lottatore perché sa cosa c'è dietro eh o che bravura o che qualità abbia trova il modo di sostenerlo perché comunque anche nei nostri canali mettiamo sempre i match che facciamo le i post per sapere dove non è ugualmente facile come se ovviamente lotti in certe federazioni WWE e così via ovviamente sarebbe molto più semplice ci mancherebbe altro però in realtà con i social di oggi si può ancora fare e quello ti fa capire chi sono semplicemente i fan che salgono sul carro dei vincitori quando fai qualcosa di importante e secondo me là non sono fan tuoi non sono amanti di te sono amanti del successo che tu fai è un po' diverso e invece i fan che invece magari tramite magari quel successo scoprono un un atleta che invece magari vale o o qualcuno in cui possano sentirsi rappresentato è un po' diverso secondo me e andando al match in Italia o in Svizzera? Ah andando al match lo sapevo già dimenticato no 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 fino a fine anno no rimarrò qui negli Stati Uniti quindi non c'ho nessun programma beh sicuramente ormai dopo dieci anni sono tornato a lottare in Italia magari spero di non aspettare altri dieci anni per ritornare a lottare magari aiutare il movimento perché poi alla fine uno torna a lottare nel mio caso non perché tornerò a vivere in Italia almeno non a breve quindi poi continuerò la mia carriera però uno torna a lottare anche per passare le esperienze che ha fatto per cercare di spiegare ai lottatori che invece magari non hanno avuto la fortuna la bravura e qualsiasi cosa sia qual è la modalità per poter calcare certi parcoscenici prima inizi e prima secondo me arrivi nel progresso senza perdere tempo quindi il tornare da parte mia non è solo una soddisfazione tornare a lottare a casa quindi sentire il pubblico che parla italiano che fa un effetto particolare e anche perché aiuti il movimento e vedi tanto le differenze tra tra come si lotta qua e come si lotta a casa comunque fatemi ringraziare Simonea che ha rinnovato l'abbonamento per il quarto mese grazie mille per il sostegno al canale detto questo posso aggiungere solo una cosa ma non 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 riguarda me il contrario perché è una cosa che da tanto che se ne parlo comunque in generale spesso c'è polemica ragazzi quando uno vuole sostenere il il wrestling italiano comunque il wrestling in Italia che non deve essere solo fatto da atleti nostrani parlo proprio il wrestling in Italia che abbia più spazio che se ne parli di più l'unico modo per farlo è seguire non solo i canali ufficiali italiani ma le persone che ne parlano seriamente hanno cognizione di causa di quello che si fa e se poi si vanno scaricano video illegalmente o si seguono persone che magari non sono competenti nell'ambito così numericamente non si aiuta molte cose sarebbero potete cambiare o magari cambierebbero se noi facessimo dei numeri molto più importanti quindi il canale di Michele che parla di wrestling per Michele comunque fa il commentatore ufficiale da proprio in Italia cioè sosteniamo gente come Michele perché Michele parla di wrestling vi far conosce il wrestling e poi uno che ne conosce l'enciclopedia insomma di wrestling ne sa forse anche più di me su alcuni punti supportatelo iscrivetelo seguitelo perché vi dà delle nozioni che o le fate come esperienze purtroppo non vengono dette cioè sono cose che o vivete in prima persona questo vale per tutti quelli che 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 fanno video che hanno tutti i lottatori italiani dare Scorpion ai tanti insomma cioè quello è il modo numericamente sosteneteli nei loro canali perché così facciamo vedere che il wrestling ha una voce anche in Italia e tutto qua e quello può portare anche a certe televisioni certe federazioni a prendere magari decisioni più importanti fin troppo buono grazie mille eh tra l'altro mi ha un po' spiazzato nel senso è una cosa che è una cosa che penso quindi l'ho detta molto tranquillamente ti ringrazio ora visto che parlavamo eh abbiamo toccato tanti punti eccetera quindi i ponti che potrei stendere sono numerosi però vi invito in chat a pensare a delle vostre domande anche se banali anche se magari Daniele ha già risposto in altri video magari non li avete recuperati perché pian piano gliele sottopongo però restiamo un attimo sull'attualità visto che andiamo di palo in frasca e mi piacerebbe sentire da te se hai qualcosa da dire al riguardo eh su Antonio Inocchi perché ultimamente purtroppo è scomparso oggi vedevo le immagini del funerale c'era anche Shinsuke Nakamura e tu sei in America mi pare di ricordare che avevi come vicino di casa un lotatore giapponese tempi mi avevi raccontato eccetera quindi magari hai anche visto eh le emozioni di qualcuno che l'ha conosciuto o tu stesso hai qualcosa da raccontarci su di lui o da ragazzino era una figura mitica che è di cui hai sentito parlare cioè questa questa scomparsa in qualche modo ha avuto a che fare con la tua quotidianità personale o americana oppure non si è sentito un granché lì dove ci sei tu questo eco ma beh è normale che nel mondo del pro wrestling quindi anche negli Stati Uniti comunque è un dispiacere una morte scioccante quindi si è sentita anche qua soprattutto però se sei nell'ambito wrestling nella vita quotidiana a me non ha toccato particolarmente perché io non ho mai avuto a che fare e con dispiacere in realtà io l'ho sempre vista come una figura quasi mitologica eh ci sono delle figure nel wrestling che sono quasi iconiche o mitologiche Antonio Inoghi era una di queste però in realtà a me non ha toccato a me privatamente perché non ho nessun aneddoto speciale mi dispiace da raccontarvi eh sicuramente nell'ambito del pro wrestling se ne ha parlato tanto perché uno che ha lasciato tanto l'unica cosa che ricordo è me lo raccontava mio padre come ha citato Antonio Inoghi perché all'epoca in Italia un periodo facevano vedere il purro reso quindi mio padre si ricordava Tiger Mask e Antonio Inoghi ricordava solo queste due figure non non capendo nulla di wrestling e non capisce tuttora nulla di wrestling e si ricordava solo queste due figure quindi un nome che sentivo da quando ero piccolo da mio padre che ricordava come il wrestling il purro reso era il wrestling vero diciamo detta un po' così da da profano ho capito allora viriamo lasciamo stare questo approdo questo argomento e passiamo a te ci eravamo lasciati che stavi facendo un sacco di esperienze nelle major che eri stato un extra in WWE anche in all elite wrestling c'era questa rivalità con beltasar in corso poi c'è un blackout comunicativo anche per mille motivi di vita e dall'ultima volta che ci siamo sentiti quali sono le cose più importanti che ti sono successe come professionista c'è qualcosa di cui vuoi raccontare a chi ci sta seguendo un paio di eventi significativi così anche per far capire ai nuovi che non ti conoscono dove ti possono trovare cosa stai facendo cosa stai combinando da quando ci siamo lasciati anzitutto aver lottato in paesi differenti dove non avevo mai lottato anche in germania quindi aver incontrato anche atleti con cui non avevo mai avuto a che fare principalmente sto lottando con una federazione messicana che si ha mucialucia quindi ho avuto a che fare ho condiviso il ring con la parca sai comunque con lottatori di grande calibro quindi sicuramente quelle sono state esperienze significative ma anche per l'importanza dei match che ti vengono dati quindi della fiducia ecco nel lottare con determinate persone due settimane fa ho lottato con l'MLW quindi aggiungo questa ennesima tacca come primo italiano ad aver lottato in MLW il bello di aver fatto WWE e l'MLW è che per me comunque per quanto riguarda l'MLW comunque ho fatto 23 match nei W quindi è una bella soddisfazione aver passato un anno mi sarebbe piaciuto starci più di un anno sicuramente ovviamente però c'è stato solo un anno però anche nel non aver rinnovato comunque non essere rimasto nei W ho fatto tantissime esperienze differenti che magari non avrei non avrei fatto non avrei avuto la libertà di poter fare anche adesso un progetto prima di fine anno però non posso di niente semplicemente perché non non finché non è sicuro e non c'è niente in mano non non dire gatto finché non c'è nel sacco quindi non posso niente pure un po' per scaramanzia e però ci sono bei progetti e quindi sai non è soltanto quello che fai all'ielo di major che sia importante però sai aver viaggiato aver lottato con tante federazioni tanti lottatori importanti nuovi e tanti paesi per dire un esempio stupido sono stato invitato al coni quando sono tornato a roma ma semplicemente mi hanno mi hanno mandato un invito io non sapevo neanche esistesse questo premio berzotte sinceramente mi è stato mandato un invito come rappresentante del breast in come lottatore forse conoscevano solo meno non ho più palire la realtà perché non ho chiesto di partecipare a questa premiazione dove è stato premiato se non mi sbaglio de zerbi c'era di nozhov e c'erano tutti i vari giornalisti quindi è stata una bella esperienza comunque entrare nella sala del coni come riconosciuto come figura sportiva poi che sapessero meno nei dettagli cosa facevo insomma poca importanza però comunque sono piccoli piccoli passi e piccoli riconoscimenti come essere trattato benissimo benissimo oltre alle federazioni europee che mi hanno chiamato o anche qui vedere comunque c'è importanza ho tanti lottatori di nome che magari anche martis corl o non lo so fenix o la park a queste persone comunque mi scrivono quotidianamente mi dicono magari vorrebbero fare un match con me lottare con me e comunque una soddisfazione personale è ovvio che si può sempre fare più si deve sempre puntare di più però io penso sempre mi ritengo abbastanza fortunato perché comunque sono sono partito da Roma non si deve mai dimenticare che da dove sono partito io pensare che ti scrivi quotidianamente con certi lottatori come se fossero tuoi non solo colleghi ma anche amici che hanno rispetto di quello fai sul ring pensarlo da ragazzo che ha iniziato a Roma è stato a fare wrestling a Roma comunque è una grande soddisfazione uno non se lo deve mai dimenticare poi è vero che quando raggiungi determinati risultati si da sempre per scontato sai non sembra mai abbastanza invece nonostante io ho fatto solo tre match in W23 nel W cioè comunque non è tanto c'è gente che ha fatti molti più di me tantissimi però pensare che sono partito da da Roma sai comunque non bisogna mai in inglese dicono take for granted quindi dare per scontato che lì dovevi fare perché se sono stato il primo a farlo un motivo ci sarà evidentemente prima non è stato fatto quindi ogni tanto nonostante non sono mai contento e magari ogni tanto rimuggino tra me e me su quello che si poteva fare meglio su qualcosa che poteva andare meglio però poi di base mi guardo indietro e comunque una piccola soddisfazione per quanto piccola e per quanto per i fan che non sanno cosa c'è dietro guardino solo fondamentalmente l'iceberg che c'è fuori e non ci si rende conto che anche quei tre quei quattro quei cinque minuti ci si lavora tredici anni nel mio caso ma c'è gente che magari arriva a determinati risultati dopo vent'anni di sacrifici 15 10 o quelli che siano non è solo tre minuti ecco dai una valenza diversa alle cose anche a quei tre minuti chat è la vostra occasione quindi per chiedere non quello che sentite da tutti ma quello che può dirvi una ristretta elite di chi scende in campo quindi mi raccomando è grande grande Sergio magari se vinco titolo mi invi la mozzarella di bufala avete paura ottima inizia a prepararle quindi approfittate di questa occasione in chat non per fare domande insomma già sentite possiamo chiedere qualcosa di particolare ad esempio sentendo ascoltando le sue parole possiamo collegarci e cercare di indagare io magari sto sulla superficie perché ho bisogno di voi che trivegliate sino in fondo lottare in messico io un po' che non guardo il wrestling messicano lavorano ancora sulla parte opposta del corpo si sono uniformati all'america e vanno sulla sinistra di base lavorano la parte opposta ma dipende contro chi lotti se il match è contro un europeo lottano a sinistra e si adeguano cioè io non ho mai non non mi sono mai dovuto adeguare lottare a destra ecco ogni tanto capita nel chain dove partono a destra tu vai a sinistra loro vanno a sinistra ritornano a destra quindi c'è un po' un mix diciamo però di base gli atleti che ti mettono contro sono persone che sanno che hanno lottato già o hanno già altre esperienze con atleti diciamo occidentali o comunque internazionali quindi tendenzialmente tendono loro ad adattarsi nonostante poi lotti in territorio loro e quindi almeno io sempre per quanto riguarda la parte di come costruire un match ascolto sempre i lottatori di casa perché loro conoscono meglio come portare il loro pubblico il tifo messicano mi ricorda molto il tifo calcistico nostro è molto molto bello e quindi da questo punto di vista ascolto sempre perché chi meglio di loro sa come guidare il loro popolo fondamentalmente e quindi delle volte bisogna ascoltarli per quanto riguarda però sì lottare a destra a sinistra spesso si adattano o spesso si mischia ecco mettiamola così spieghiamo ai più giovani o a chi vedrà la replica che nel mondo del wrestling è convenzione portare le prese sulla parte sinistra del corpo cioè agire come perno come movimenti da quella zona su quella zona ma in messico no in messico storicamente si lavora a destra quindi a volte ci sono un po di situazioni complicate da gestire ora la parca l'atleta che citava daniele è un tizio molto pittoresco perché storicamente combatte con un vestito che ricorda uno scheletro quindi è una sorta di spirito insomma che torna dal dal mondo dell'aldilà proprio in stile halloween e tra l'altro la sua famiglia è da sempre legata al mondo del wrestling io me lo ricordo perché ai tempi della wcw quindi metà anni 90 aveva già superato il confine combatteva negli states ed era leggermente sovrappeso rispetto agli standard ipermuscolosi ma faceva delle mosse volanti allucinanti veramente cose spaziali ha perso un po di smalto e ancora uno che nel ring ti ti fa impazzire allora non fa più quelle mosse volanti però ti posso dire che ti ammazza di bishop cioè a livello a livello di colpi se non gli sta ecco una cosa che che mi ha impressionato il pensare che prima di guadagnarsi il rispetto di queste leggende messicane nel backstage parli con un tramite non parli direttamente con loro all'inizio il match non lo prepari con loro finché a un certo punto magari non vedono che capisci di presto comunque sei un lottatore rispettabile e allora incominciano a darti il rispetto quindi anche sul ring tendono a essere abbastanza pesanti mettiamola così sempre nei limiti insomma della professionalità non fanno mai nulla di non professionale però devo ammettere che i colpi arrivano fortissimi da parte di certi lottatori fortissimi soprattutto in messico dove sono molto amanti di questo stile di lottare tra il pubblico sono amanti dei match dove c'è con stipulazioni con le armi si vede molto il blade job quindi il sangue insomma sono molto molto amanti di questo stile di presto anche con solo le cose aeree e la barca no vabbè ci avrà 50 anni forse anche di più fisicamente sta un po' fuori condizione però fa degli spot con intensità e con violenza tra virgolette quindi comunque con come posso dire rudezza forse abbastanza impressionanti eh bump anche sul cemento cioè sfido chiunque a dire qualcosa devo mettere che ti morisce comunque se non lo conosci poi invece è una persona molto bravissima molto professionale a me è rimasto proprio in testa lui faceva il chairman quindi aveva reso la sedia il suo strumento di battaglia preferito ce l'aveva sempre la suonava come una chitarra la tirava addosso i nemici era si era fatto si era connotato anche per l'utilizzo specifico di questo oggetto particolare allora vediamo qualche domanda conosci l'inse dorado visto che vi seguite su instagram si siamo da questa si si ci conosciamo ci conosciamo molto bene anche perché vive orlando ogni tanto ci siamo allenati insieme abbiamo condiviso un paio di show indipendenti insieme ultimamente soprattutto quando è stato rilasciato e quindi sì tranquillamente lo conosco ci seguiamo sui social poi quale match è preferito tra quello con stroman ma roman non credo che tu abbia combattuto con roman reigns no credo intenda rowan a rowan o quello con jake e roberts se hai un match che preferisci tra questi oddio ma non è che ho una preferenza sono tre situazioni differenti in tre luoghi differenti allora il primo row sicuramente non si scorda mai quindi con stroman non non te lo dimentichi mai il secondo però l'ho fatto al td garden a boston che è la mia città preferita e quando ci sono venuto nel 2004 da piccolo in vacanza ho sempre detto un giorno ci vorrei lottare beh sta soddisfazione me la sollevata magari non ho lottato come avrei voluto lottare però perlomeno sul ring ci sono salito e da lottatore professionista sono stato trattato quindi anche quello è uno che ricordo volentieri e con jack the snake faceva il manager non ho lottato con jack the snake per precisare insomma la domanda era manager di archer e a fine match fuori insomma quando è finito il tapings quindi non è stato ripreso dalle telecamere era fuori programma non lo sapevo mi ha fatto una ddt ma non lo sapevo quindi aver subito una ddt al jack the sister rock comunque una bella soddisfazione c'è questa cosa che vi racconto anzi due prima mi ricollego al discorso precedente no dei lottatori che hanno un tramite nella letteratura qua dietro io non so dirvi fino a che punto è vera fino a che fino a che punto è profonda pare che questa fosse la normalità nel wrestling degli anni 40 50 60 e forse addirittura in alcuni posti sino agli anni 70 cioè spogliatoio dei face spogliatoio degli il e la gente che fa da tramite e gli atleti si incontrano sostanzialmente per non destare sospetto in chi lavora nell'arena si incontrano e possono parlare pochissimo tra di loro veramente poco prima che inizi il match quindi non è una cosa così fuori dal mondo cioè è una delle non è la leggenda non è la leggenda vero è successo anche più recentemente non succede solo non solo in tempi passati è una delle proprio delle basi delle strutture del wrestling non antico però semi moderno mentre l'altra cosa cioè prendersi una mossa da una leggenda del ring io ne parlavo con il mio collega telecronista francese cioè prendersi la mossa iconica di qualcuno che è nella storia del wrestling uno dice vabbè dai ti ha steso hai fatto una figura ma guardate che è importantissimo quando ci hanno eravamo a bordo ring a rock con lesnar che ha distrutto tutto il mio collega francese ha detto se ci chiedono di peccare la f5 io voglio essere quello che la prende e gli ho detto ma sei sicuro cioè insomma rischi di cadere male cioè devi tornare a casa lavorare e mi ha detto sì ma ne parlerà tutto il mondo e io di questa cosa andrò avanti per dieci anni cioè sono quello che ha preso tra tutti i telecronisti la f5 di brock lesnar poi non ce l'hanno chiesto non è successo però pensate cioè l'essere scelti o il subire questa cosa l'immagine il ritorno cioè oggi uno diceva vabbè dai l'ha fatta centomila persone va bene l'ha fatta anche a me l'ha fatta anche a me è un momento speciale un momento che aiuta magari come applauso chi mi ha pavimentato la via e in più io posso dire cacchio ho lavorato con lui ho avuto un'interazione sono cose che forse chi non non calca il ring capisce poco ma ma sono importantissime sono importantissime ci sono una serie di storie una tra l'altro di cn punk che racconta nel backstage austin era ospite così nel backstage andava a trovare i lottatori così e però non aveva nessun tipo di angle e sim punk non conoscendo però essendo un idolo insomma per punk era un idolo stone cold gli chiese ma ti va se a fine match entri e mi fai una stunner lui stesso si è proposto di subire una stunner ma a chiunque lo chiedi prenderebbero una rock bottom da the rock e così via anche anche scottolo una volta disse se se mi paghi tutte le sere per prendermi il leg drop da ogan io vengo pagato e prendo leg drop tutte le sere perché comunque lavorare la parola job vuol dire fondamentalmente lavorare di base cioè tu fai un lavoro con l'altra persona quindi lavori per l'altro o con l'altro e quindi è un grande onore ma subirne veramente tutte le sere di queste mostre iconiche insomma come è successo con kevin owens proprio in avresta il menia ci fanno notare in chat giusto allora l'ipino che mi sembra molto informato sul tuo presente dice stai lottando molto in ccw in realtà nella quale hai perso il titolo pwli del luca progress in live event credo è ok progress in live event dove ha lottato anche nico narciso quindi acqua beltasar che tipo di federazione è dove la possiamo vedere ha una sua narrazione allora è una federazione che nasce a miami led trainer della federazione gangre e quindi ex w e ed adesso però una forse una delle poche se non l'unica federazione delle indipendenti che fa show tutte le settimane in tante città differenti addirittura un weekend ha avuto tre show in tre città diverse in alcuni ancora stati americani differenti quindi spesso per esempio ho fatto lo show con loro venerdì qui a orlando il giorno dopo erano un'altra città poi vanno anche per esempio a nashville è una federazione che che fa molti tapings televisivi fa show tutte le settimane tutte le settimane e in tutte le settimane in città diverse alcune anche fuori dalla florida quindi in altri stati degli stati uniti e chiamano anche lottatori di grande nome quindi adesso si sta facendo sentire molto una federazione molto molto rinomata beh dove la puoi vedere puoi vedere andando sul canale della federazione una risposta molto semplice e alcuni match forse che ho fatto io con la CCW l'ho messi anche io uno credo quello fatto con luca lo puoi vedere sul canale della promessa in live event quindi anche belta lo dovrebbe aver caricato sul suo canale quindi basta seguire la federazione e tranquillamente puoi seguire tutti i match sia una narrazione loro perché avendo show settimanali è più facile costruire storyline tra l'altro ne parlavo col campione sabato perché ho fatto il match per il titolo sabato fatto il main event e ero lo sfidante del titolo massimo della federazione ovviamente non l'ho vinto ovviamente in questo caso dai il job al loro campione si direbbe per dirvela in maniera quindi metti over come per esempio in WB tutti quelli che hanno i challengers quindi gli sfidanti che in questo anno e più hanno sfidato Roma Reigns hanno lavorato assoluto hanno lavorato in main event quindi è un grande onore lavorare in main event per il titolo ma fondamentalmente hanno creato hanno dato la possibilità a Roma Reigns di aumentare il proprio status durante questo periodo all'interno della narrazione anche questo quando si fa un giudizio dovete andare sempre a fondo nel perché vengono fatte determinate scelte delle cose e per un lottatore comunque lottare per un titolo è sempre la soddisfazione indipendentemente che si vinca o che si perda perché significa che ti viene data non solo grande responsabilità ma c'è rispetto nel lavoro che fai perché ti reputano qualitativamente utile per poter lavorare per un main event indipendentemente poi tu vinca o meno Allora che impressioni ti hanno fatto Triple H e Vince McMahon sempre che tu li abbia incontrati e che aria si respirava negli spogliatoi della WWE della All Elite Wrestling visto che si è entrato in entrambi i backstage Allora con Vince ovviamente l'ho incontrato più di una volta ma non ci ho mai scambiato neanche una parola anche perché è quasi proibito parlarci mettiamola così e anche germofobico quindi anche avvicinarsi eccessivamente vicino Triple H invece ho avuto la fortuna anche di scambiarci qualche parola devo ammettere mi è capitato in NXT e mi è capitato anche a Boston dopo il mio match Allora Triple H mi ha fatto una sensazione Allora all'inizio entrambi beh ti intimoriscono molto sia per presenza fisica che per un'aura magica che hanno intorno ma da come cammino quando ti ho aura ci sono dei lottatori che li senti anche da tre porte prima che stanno arrivando hanno proprio una personalità un carisma un'energia di come si muovono però poi conoscendolo comunque parlandoci per quel poco che ci ho parlato per qualcuno che mi ha raccontato qualche storia su Triple H a performance center è uno che veramente aiuta tanto gli atleti è una persona molto cioè che ama il wrestling e ti tratta con rispetto nonostante tu magari sei l'ultimo arrivato a questa è l'impressione che ha dato a me presentandosi non perché io mi sia voluto presentare ci mancherebbe perché la prima cosa che ti dicono è non salutare mai Vince Stefani e Triple H mai se non ti salutano loro se loro invece si avvicinano quindi il fatto che si sia approcciato mi abbia chiesto il nome da dove provenivo perché poi molti nel mio caso non capiscono neanche il mio nome che dico Daniele quindi mi chiedono cento volte la pronuncia del mio nome e capiscono che sei straniero e da lì inizio la conversazione seppur breve e speriamo speriamo tutti anzi NXT Europe magari può essere una buona alternativa ecco può essere una buona possibilità per i lottatori europei soprattutto quelli che stanno qua che militano già negli Stati Uniti e quindi avranno sicuramente meno problemi per quanto riguarda i i biglietti quindi tipo lì ci mi ha fatto un'impressione veramente positiva devo ammettere è ovvio poi c'è sempre che atmosfera si respira beh federazioni comunque milionarie comunque ci deve essere un atteggiamento un comportamento anche un rispetto che devi dare nei confronti degli altri in WWE sicuramente già questo già l'ho spiegato in un'intervista con Michele tra l'altro lo ripeto si respira un'atmosfera di una federazione che sa il peso che porta e che deve rispettare determinate esigenze ma fa parte di fa parte del gioco è giusto nel senso se tu giochi a Real Madrid giochi a Barcellona calcisticamente parlando c'è una pressione differente che se giochi a Sassuolo mi sembra non c'è nulla di male mi sembra abbastanza scontato in AW ci sono stato il primo anno dell'AW quindi ora non so adesso come sia io non c'ero quando c'era CM Punk non c'ero quando c'era Brian quindi non vi posso dire all'epoca si respira veramente l'ho già detto sempre con Michele proprio un paradiso felice un'atmosfera bellissima spoglia io ero uno spogliato io con Pentagon Junior con cioè con Angelico non c'era differenza tra chi come noi veniva chiamato da extra anche perché eravamo solo 4 5 sempre gli stessi per un anno quindi avevamo la nostra entrata è ritrattato da lottatore avevi un minutaggio maggiore quindi si respirava veramente un'atmosfera di fondamentalmente un lottatore sotto contratto quando poi viene chiamato tutte le settimane per fare tutti i tapings a un certo punto diventi di casa e quindi si respirava un'atmosfera molto più tranquilla almeno quello che mi è parso a me adesso che hanno raggiunto un livello di concorrenza tale da dover competere confederazioni come la WWE credo che sicuramente anche l'atmosfera possa essere variata perché anche da parte loro adesso c'è una pressione differente ipotizzo io come è stato vissuto lì in America almeno negli ambienti che tu frequenti il cambio della guardia cioè con Vince McMahon che ha abbandonato almeno da un punto di vista amministrativo tutti i ruoli all'interno della WWE cioè hai notato che ci sono state delle discussioni tra voi nei backstage con altri cioè che si è riaccesa magari la speranza di essere richiamati rivisti anche perché devo capire un attimo i provini che stanno proponendo cioè sembrava che volessero avere almeno i try out WWE chiuderli ai wrestler per andare a prendere quasi soprattutto gli atleti universitari mentre ora per i wrestler sembra esserci una migliore apertura avranno sempre i progetti in il quindi next in line con l'università al top però non sembrano più così resti a valutare dei combattenti già eh formati eh quindi volevo interrogarti su tutto questo panorama di cose allora ci sono un po' opinioni contrastanti anche tra di noi lavoratori nel parlare così eh sicuramente se c'è una persona adatta a prendere il pozzo di insegnamento era Triple H non c'era persona migliore nel poterlo fare perché aveva un connubbio tra conoscere cos'era il wrestling passato quindi lo school ma anche il cambiamento quindi era eh quello che poteva diciamo eh riuscire a far rispettare entrambe le visioni di wrestling che era più amante di alcuni concetti passati e l'evoluzione moderna eh un po' dispiacere perché comunque non era più presidente una figura fondamentale perché vince il peo cioè se il wrestling è dov'è oggi fondamentalmente bisogna di grazia vince il peo anche ecco o soprattutto mi avrebbe da dire quindi bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare quindi c'erano opinioni un po' contrastanti da questo punto di vista eh molti erano contenti perché comunque eh Triple H gestiva NXT quindi si pensava che WWE potesse andare verso quella direzione e quindi tra di noi ovviamente c'è felicità perché quando vengono inclusi i lottatori indipendenti è normale che c'è più contentezza perché c'è più possibilità di esserci mentre invece quello che hai detto tu è corretto prima sopra i trent'anni e i lottatori che avevano già esperienze di wrestling non non erano per un periodo non sono stati più neanche non hanno fatto neanche più try out quindi nel mio caso ero sicuramente escluso adesso magari con con Triple H ci potrebbe essere una speranza maggiore adesso magari torneranno a fare dei provini con atleti misti quindi sia lottatori che hanno già calcato ring di Preston che con altri che invece sono soltanto atleti professionisti di altre discipline ecco c'è un pochino più di speranza quindi da lavoratore ovviamente uno è contento perché è giusto che ci sia un'evoluzione ma questo come in tutte le cose allora esaurito questo argomento volevo domandarti prima hai parlato insomma hai detto tra le varie cose che alcune situazioni chiaro col passare del tempo uno si interroga potevano magari andare un po meglio sai c'è sempre la un po di revisionismo la mente tende no a volerci portare lì ma la mia domanda è da quello che ho capito di te sei una persona che in questo gorgo si perde poco no che ha sempre voglia di guardare avanti di migliorarsi di avere sempre più frecce da poter scagliare a cosa stai lavorando di specifico adesso su di te cioè ci sono dei comparti dove dici ho capito che qua devo fare meglio posso fare meglio possono essere fondamentali per rendere il wrestling sempre più una professione e ti ci stai dedicando cioè c'è qualcosa dove hai capito che può essere da spingere che va spinto e che ci devi dare un po più di tempo energia e impegno sembrerà un quasi ragionamento contorto ma realtà è proprio il il aver preso troppo seriamente il voler troppo bene al wrestling da parte mia personalmente e anche con troppa serietà proprio ogni cosa che si fa quasi religiosa nel mio caso che secondo me poi ti guardi intorno e ti rendi conto che invece di prendere un po più con leggerezza mettiamola così anche le cose che non vanno di non pensarci più di tanto mentre invece quando sei una persona come me un po meticolosa un po sai sacrifici che hai fatto rispetto al wrestling ho sempre pensato che c'è solo una via e basta cioè che la vita fosse soltanto all in cioè o la va o la spacca invece secondo me questa cosa ti mette troppa pressione perché se sbagli è finita è sempre stato così da parte mia se no non mi sarei trasferito qua io sono sempre venuto solo con un obiettivo invece magari di essere più me stesso prendere con un po più di leggerezza anche determinate cose che non puoi controllare fondamentalmente perché non ti puoi far firmare un contratto da solo non puoi chiamarti da solo e magari non sempre hai sbagliato qualcosa magari semplicemente qualcuno non ha notato qualcosa in te o non eri al momento giusto al posto giusto come in una donna magari o un uomo a seconda delle relazioni o di cosa piace magari non c'è niente di sbagliato in te semplicemente quella persona non è innamorata di tu di te non c'è nulla che tu puoi fare per farla innamorare tu puoi essere anche la persona migliore del mondo lei in quel momento non ti amerà mai non lo vedrà mai e non c'è niente di sbagliato in te non siete persone affini punto o non era non era destino in quel momento poi ci sono sempre cose che si può si possono migliorare però in realtà cerco di essere più tranquillo c'è di sentire meno pressione meno addosso proprio anche il fatto di dover rappresentare sempre un paese con dignità le persone sapendo che poi magari se ne sarebbe parlato vai sull'articolo di giornale anche questo comunque un po ti pressiona perché tu vuoi che la gente sia orgogliosa che tu hai fatto quel match invece fondamentalmente di prenderlo molto più leggero nel senso che a molti pensano che sono due minuti tre minuti e che sarebbero capaci anche loro fondamentalmente chi se ne importa io invece prendo seriamente tutto anche questi commenti ti toccano quando fai sacrifici quindi questa cosa secondo me ti porta a non essere completamente te stesso che non vuol dire che non sei te stesso però a lasciarti andare bene con le persone o magari a fregartene troppo fregartene troppo può magari farti brutti scherzi invece ti lasci andare fondamentalmente chi se ne importa viene non viene quando le cose le prendi un pochino più leggerezza con più genuinità fondamentalmente poi vengono e se è destino vengono io ho sempre creduto che sì le cose le devi andare a cercare perché sennò non mi sarei trasferito da solo quindi è normale che devi andare in direzione delle cose ma non devi forzarle se non vanno non vanno non devi forzare per forza una relazione la carriera è una relazione soprattutto una carriera artistica come i lottatori la musica e così via ci sono certe porte non si aprono oppure sono state esperienze di vita non sono andate inutile forzare quella cosa non è andata evidentemente non c'è niente che tu puoi cambiare così doveva andare quindi con un pochino più di di serenità mi verrebbe da dire quello che sto modificando è la felicità mia personale ecco mettiamola così se proprio vogliamo dirla eh magari rinunciare un po' meno alla mia felicità cosa che invece negli anni ho sempre fatto ho sempre fatto ho sempre rinunciato a ciò che rendeva me felice come Daniele perché viene prima il wrestling e poi però ti rendi conto che le persone che ti seguono o le persone che ti intervistano i giornali o tutte queste la radio tutte queste belle cose che ho fatto in questi anni fondamentalmente vengono perché sei primo in classifica o gergo calcistico cioè sei sulla cresta dell'onda e poi quando invece fai altre cose fondamentalmente tu hai sacrificato tutto per questo ma al contrario sì ti vengono date bellissime esperienze incontri bellissime persone ma poi in mano a gente che ti vuole bene veramente tu l'hai sacrificata fondamentalmente a caso ho sacrificato anche la mia città e mio paese quindi doppiamente ci devo sta attento e invece adesso magari delle volte stacco magari un pochino di più anche sui social media che sono belli perché permettono di parlare a distanza di poter condividere tante cose ti danno visibilità permettono alle persone di poterti seguire mandarti un messaggio essere magari ad esempio cose straordinarie ma sono anche altrettanto tossiche quando leggi cattiveri o cose nei tuoi confronti o comunque cose gratuite come ne leggo tante e così via che fondamentalmente preferiscono o comunque dispiacciono perché perché tu fondamentalmente rappresenti in piccolo o comunque cerchi di portare rispetto anche al tuo di paese non solo a te stesso perché non lo fai solo per di tre per daniele o per mambo o chi per sia lo si fa anche perché io avrei pagato oro da piccolo per poter vedere qualcuno che parla la mia stessa lingua e che stava a ro anche solo per un minuto anche se avessi detto una sola cretinata però che avesse rappresentato veramente chi mi sento e chi sono invece per me non è mai stato così e quindi magari non prendo non dare per scontato che queste perché queste persone facciano questo perché se abbiamo fatto solo io e mambo un motivo ci sarà bisogna farsi una domanda e darse una risposta e io a livello umano queste cose adesso le prendo molto più serenamente per rispondere un po' alla tua domanda questo è quello che ho cambiato poi il resto no l'impegno è sempre quello il voler sempre creare attire creative idee creative quello o magari guardare avanti eh lottare in posti dove non si è lottato la mentalità c'è sempre il fare esperienze che non si sono fatto quella è rimasta la stessa magari prendo un pochino più alla leggera il fatto che se un giorno non dovesse andare mi dovesse infortunare dovesse finire qualsiasi cosa sia beh la bravura è anche essere felici anche senza il wrestling un giorno mi sembra brutto dirlo però è da parte mia che non l'avrei mai pensato però però è così invece per me c'era solo una via per me c'era o felicità di wrestling o bisogna morire tipo carcobain cioè me la sto dicendo molto estremista no no guarda che l'avrei fatto però è così e molte hanno fatto in realtà sono pensieri comuni anche per me infatti la domanda che mi sorgeva durante il tuo discorso che non so se ora è attenente ma dammi un secondo per sviluppare il tema è ti diverti ancora o sei schiacciato dalla responsabilità della prestazione perché se la si fa se la si dovesse fare a me cioè io ti risponderei sinceramente come telecronista ovviamente no io non mi diverto cioè io voglio fare bene e sacrifico tutto per fare quello ma mi piace un casino cioè paradossalmente cioè non mi diverto ma sono contento così però quell'idea della ho sacrificato ho rinunciato ci sono cose che non si sono viste e se sulla cresta dell'onda solo quando le cose vanno bene poi non ti cagano stai nel tuo angolino non ti cercano beh è molto comune in chi fa spettacolo no quindi la domanda era proprio questa riesce ancora a divertirti perché il problema ci riflettevo insieme a un paio di persone proprio una decina di giorni fa è riscoprire questa fase di divertimento che non è essere meno professionali ma è l'allargare la cintura il concedersi qualcosa che in tanti anni non ci sono non ci siamo evidentemente concessi perché c'era da seguire un percorso e non potevi uscire dal sentiero perché sembrava quasi un tradimento uscire dal sentiero cioè dovevi starci sopra o sembrava soprattutto un tradimento o un voltare le spalle al fatto al fatto tutti si aspettano questo da me perché per me è sempre stato così e tutte le persone che mi conoscono hanno condiviso ring con me anche chi si è allenato all'inizio tutti si aspettavano che sicuramente di tre arriva sicuramente di tre fa e allora anche questo un po sai dici bah che faccio volto le spalle al resting no invece delle volte bisogna di fondamentalmente mi rende felice per rispondere un po' alla tua domanda allora sì mi diverte ancora però con una piccola differenza che viene come hai detto tu hai detto una cosa stra stra giusta per me viene prima il fatto che sia fatto bene a me non è importante che sia felice io a me non frega niente che io sia felice del match io voglio che il match sia stato fatto bene e che le persone pensano che quello che hanno visto è il miglior match della serata o perlomeno che io abbia portato rispetto al wrestling che il promoter sia contento che i fan siano contenti io sono contento di diciamo di rimando perché se dovessi basarmi sulla mia felicità no è impossibile che a me possa essere piaciuto un match per n motivi per n significati quindi mi diverto ancora sì sul ring lottare perché lo sento mio come se tu chiedi a un ballerino di ballare io determinate cose mi sono sempre naturali spontanei quindi le faccio perché lo sento come il ritmo per la musica lo sento così se però mi chiedi tutto quello che c'è intorno lo cancelleresti sì farei il match e mi azzerrerei la memoria come come la vita con un click cioè manderei avanti col telecomando tutti i viaggi la maggior parte l'80 per cento delle persone che conoscono il backstage manderei tutto avanti perché sento che non ho nulla in comune a parte lottare wrestling con la maggior parte delle persone con cui io condivido è brutto dirlo sembra che sono negativo però no lo dico sinceramente mi diverto molto di più a volte a parlare di altro che di wrestling personalmente forse perché lo faccio da tanto da sempre non lo so non lo per n motivi insomma però non con tutti ho conosciuto straordinarie persone premetto dipende anche poi dai luoghi dall'alchimia che hai magari anche con il posto è difficile generalizzare però di norma i sacrifici che fai con il ritorno che hai non è paragonabile non è veramente la cosa non è neanche metà cioè tu dai 10 a te torna 2 non ti torna neanche 5 rispetto al 10 che tu dai ipotetico da parte di tutti non solo daniele da parte tutti i otto diritti wrestling nel mondo anche i ricchi anche i sina anche questi hanno dato il triplo rispetto a quello che hanno avuto rispetto a quello che il wrestling dovrebbe dare se facciamo un paragone con gli altri sport c'è sempre tanto sacrificio ritorno non è mai lo stesso però diciamo che la percentuale è quasi pari al 50 per cento è un pochino più si avvicina un po più la metà se penso al calcio se pensa a tutti gli altri sport se pensa al fatto che hanno dei diritti maggiori dei periodi di pausa anche soprattutto perché c'è l'off season in molti sport nel wrestling non esiste nel wrestling vieni sostituito se tu ti vuoi prendere un periodo di pausa prende e vieni dimenticato la gente volta le spalle quello diventa una pippa improvvisamente chi ieri era un fenomeno in altri ambiti non accade in altri ambiti c'è un pochino più di tutela nei confronti di chi esegue una performance o comunque fa un lavoro pubblico mettiamola così mi ritrovo molto in quello che racconti ma più che altro caratterialmente perché su quello siamo decisamente simili e vorrei farti una domanda un po' provocatoria poi ne ho salvate un paio dalla chat ricollegandoci al discorso che facevamo prima no fuori fuori diretta andando a vedere un po' l'entusiasmo dei fan come sono cambiati i fan nel corso del tempo quindi io un po' più anziano rispetto a te che scopre il wrestling sulle tv locali se ne innamora prima il proreso quindi il giappone poi i tempi pionieristici taglia uno stare svegli sino alla tarda notte per l'età che avevamo e lemosinare qualche sprazzo per riuscire a vederlo poi telecapo distri al pomeriggio non avere l'abbonamento a tele più perché si era sgangherati economicamente però trovare le riviste in inglese dire dai voglio imparare almeno a leggerlo così rimango informato no e tutto questo è un percorso di fan che avevano poco e ogni ora in più vista era una grande conquista ora invece il wrestling ci bussa addosso ci arriva addosso e ce n'è fin troppo il fan magari non riesce più neanche a seguire tutto quello che viene proposto ma una cosa ho notato dei fan moderni sono schiavi del risultato al di là che guardano poco al di là che guardano i riassunti al di là che si perdono le piccolezze che fanno grande un match ne parlavamo prima le espressioni facciali dire misterio i mannerismi movimenti di edge eccetera però il risultato sembra essere diventato il fulcro cioè non di roma rense ha fatto un bel match ha vinto ancora vabbè ha rubato eccetera ma roma rense ha vinto ed ho un giudizio cioè tutto gioco si gioca sul risultato e non più sull'arte del wrestling cioè si è succubi del risultato il performer lo fa solo il risultato per certi versi è normale è una disciplina che simula che ci sia un una prospettiva di forze però non è che il risultato ci stia condizionando troppo nel valutare il wrestling cioè so che è una domanda strana perché il risultato fa i campioni il risultato crea queste gerarchie ma il risultato ti porta dei giudizi molto frettolosi spesso o a dire guardo solo il risultato e tutto il resto non mi interessa il resto diventa accessorio e cosmetico io questo cioè si sviluppa si sta sviluppando una fan base che non guarda più neanche che leggi il risultato e leggendo il risultato giudica il wrestling allora premetto che non lo so perché me ne guardo da 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 leggere tutti i forum siti no non seguo nulla che sia inerente a giudizi da parte di persone non addette ai lavori perché so che viene detto di tutto di tutto di più però ti posso dire che un po' è vero però credo che non sia riguardante il wrestling credo che sia proprio è un proprio una generazione che è così generazione non generazione i ragazzi parlo che è proprio un mondo moderno che è così siamo diventati un po' tutti così ed è come se io giudicassi un film e diciamo la performance dell'attore all'interno di un film del perché negli ultimi dieci minuti del film il buono o il cattivo di turno non vince non rimane vivo nel film invece che giudicare il film questa è la realtà o la performance degli attori all'interno del film il wrestling è la stessa identica cosa bisognerebbe limitarsi a giudicare per quella parte per quel ruolo che gli è stato dato la persona è stato bravo a interpretare quel ruolo sì no punto poi che il lottatore abbia vinto perso la per là ci può stare che c'è una rabbia un dispiacere quello mi sta antipatico perché vince così sul momento ci può stare col seno del poi delle critiche che a volte si sentono si si leggono da parte di qualcuno su determinati lottatori di fenomenali io obiettivamente a volte mi chiedo come come è possibile se sono su Roma Reins tante critiche su tanti lottatori del genere ma guarda che stare davanti a milioni di spettatori e fare determinate cose a quel livello starci per tanti anni non solo non è una cosa da tutti è il contrario è una cosa per pochi eletti che è diverso perché anche a livello morale è difficile sentirsi fischiare dall'arena cioè ci vuole grande consapevolezza di se stesso io noto che credo che proprio una superficialità generale in tutti gli ambiti dove ormai tutti sono professori di tutto e tutti pensano di sapere tutto e nessuno invece semplicemente o pochi semplicemente guardano le cose per il gusto di guardarle nel senso vedo un film non devo fare forza all'esperto di di personaggi introspettivi del film guardo il film e valuto semplicemente se quel film in quei momenti mi ha appassionato se l'ho reputato noioso se avevo un'aspettativa migliore o peggiore o se gli attori in causa mi hanno causato emozioni e sentimenti io il wrestling lo valuto così l'ho sempre valutato così poi che è facile dare giudizi dall'esterno comunque dire io avrei fatto meglio quello doveva fare così è sempre facile a roma si dice un termine però non posso usare su twitch è facile fare i conti coi soldi degli altri abbiamo capito qual è a roma se ne dice in un altro modo molto facile secondo me bisognerebbe semplicemente giusto dare un giudizio giusto dare una critica giusto avere una preferenza però pensare sempre quel match quello show quello spettacolo io sono andato a vedere il circo di soleil non è che capisco dei circensi non faccio non vado là a fare l'esperto dei circensi quello l'avrebbero dovuto mettere forse un pochino dopo quella performance guardo apprezzo gli atleti che ci sono posso preferire uno spettacolo rispetto ad un altro ma valuto la serata che ho passato al circo di soleil l'emozione che mi ha regalato andare con mia figlia a vedere il circo di soleil fatto non sei più scemo bisognerebbe valutare quello e io ricordo ancora a distanza di anni mi mette mi mette allegria al pensare se state svegli un milione di volte a in età diciamo piccola quindi diciamo medie e superiori alla una di notte così dicevate voi su sky sport e io la mattina giorno dopo andavo a scuola però io facevo le cinque di mattina per vedere il preview di presti vince perdeva una persona odiava un persaggiatro ma a distanza di anni quella è un'emozione unica che mi rimarrà anche se poi ho vissuto da solo purtroppo però è quella la bellezza cioè il godersi lo spettacolo invece manca ultimamente si è perso un po' questo e si guarda un po' troppo di più la news che esce su chi apparirà domani quello ha litigato con quell'altro si è persa la magia un po' del del sapere la magia un po' del Vrestin secondo me la bellezza è magari quando c'erano quei grandi ritorni quei grandi finali che non ti aspetti cioè emozionarsi poi questa semplicemente la domanda che mi è venuta in mente è abbiamo parlato magari di un po' di superficialità tra i tifosi ovviamente qua dovrei fare del distinguo credo ma c'è ancora della superficialità tra i Vrestler ti faccio un esempio qui spesso a lunedì facciamo contenuto quindi andiamo a vedere cose storiche e anche ad alto livello tipo WWE anni 90 c'era chi non voleva perdere cioè chi si appellava e faceva di tutto per non perdere e quindi non contribuiva a quella cosa prima lo show e poi io anzi l'agenda era prima io e dopo lo show quindi c'è ancora in alcuni Vrestler che ha incontrato in alcuni backstage questa situazione di è difficile lavorarci perché il risultato siamo anche noi stessi schiavi di quest'ultimo insomma certo certo che c'è ancora a me è capitato anche in prima persona di dover perdere un titolo per questo motivo tra l'altro detta così e in passato ma cosa provi quando avresti dovuto vincere devi cambiare il risultato cioè mandi giù e stai zitto mando giù il tuo titolo perché sono professionista e mi hanno sempre insegnato di non abbassarsi mai a livello degli altri quando una persona fa qualcosa non è che se uno mi ruba in casa vado a rubargli a casa sua se no è la legge del taglione se no mi uccidono un figlio uccido il figlio suo facciamo la mafia se no no mi hanno insegnato io devo dimostrare a sei migliore dell'altra persona che ha avuto un comportamento sbagliato e io ho subito veramente dei torti dei torti anche ultimamente tra l'altro vi dirò dei torti anche umani tra l'altro che non c'entra niente del Vrestler sono rimasto professionale perché in professionista così farebbe vengo pagato per farlo lotto do il meglio di quello che che mi viene dato e pazienza chi non ha capito che il Vrestling non è non è chi vince chi perde ma il Vrestling è la performance Fenix mi disse non è importante il vincitore è importante il fan che va a casa con il ricordo del lottatore quello è il vero vincitore e per me è così finché avrò la possibilità di poter performare di potermi esibire per me quello è importante non il risultato è che spesso siamo schiavi del risultato Michele perché è proprio il mondo che viviamo oggi è schiavo dell'apparenza dove le persone sui social mostrano quello che vogliono farti mostrare e non la realtà non credo che nessuno posta una foto dei mariti e le mogli che ne so che litigano cioè tra di loro guarda che è bello quando litigavamo ieri nessuno dimostra eppure c'è pure c'è anche quello c'è quello come nelle foto dove tutti ridono il famoso no sorridi e tutti ridono perché la sciagura diventa spettacolarizzazione una faccio la foto ridiamoci assieme intanto però lasciate il like secondo me c'è il fatto che adesso forse anche da parte del Vrestling un po normale che ci sia perché comunque di base scegli questa disciplina perché un po ti piace essere al centro dell'attenzione un pochino se no non sali su un palco a meno che non nasci con doti naturali o canore o di Vrestling così che proprio ci vai perché capisci che è la tua non lo so dote naturale la maggior parte delle persone che scegliono un ambiente con dei riflettori con un palco è perché piace essere guardati bisogna dirsi la realtà questo non vuol dire che bisogna essere delle prime donne bisognerebbe sempre mettere il lavoro che si fa prima del proprio risultato personale però capisco anche che è difficile e o forse non viene neanche spiegato bene perché a molti bisogna spiegare che se vinci 100 titoli guarda che non mai messo K.O. davvero forse hai sbagliato sport se vuoi fare il duro il forzuto il tough guy e queste cose qua e di andare a fai MMA ti andrà a far pugilato hai sbagliato sport qua perdo perché mi faccio buttare a terra da Stroman e mi faccio contare perdo perché i lottatori nei W mi faccio contare non lo so quanti magari ti conterebbero veramente bisogna sempre ricordarsene questa cosa invece purtroppo il risultato mette un po' fumo negli occhi o comunque determinati achievement quindi risultati non solo risultato sportivo a livello di vincere parlo di alcune cose che si raggiungono traguardi nella vita a volte fanno da fumo negli occhi e ti fanno credere qualcosa che fondamentalmente non sei perché fondamentalmente vinci perché qualcuno ti permette di vincere o dice che devi vincere non perché tu vinci davvero e questo bisognerebbe sempre ricordarselo quando ci si raffronta poi con altre persone con altri colleghi bel tasarra scrive una cosa ma nell'esempio sono venuto in svizzera io trattavo dal primo all'ultima persona come tratterei re misterio cioè o come tratto me stesso senza senza differenze eppure sarei potuto permettermi di dire ho fatto da proprio dei W quanti ne hanno fatti qua dentro nessuno ok bene facciamo le parti non l'ho fatto in altre situazioni c'è gente che fa così in una in un parallelo differente ovviamente quindi c'è questa sudditanza io mi ricordo mi ricordo che è stato uno dei problemi principali della formazione della rinascita del wrestling italiano perché tutti volevano essere quello che vinceva quello che era più acclamato quello che poi entrava nella hall of fame quello che insomma perdeva solo contro l'amico e via dicendo quindi è sempre stato un problema anche quando si era estremamente dilettanti io ho sempre detto sai che sono molto avido nella vita no ovviamente non vale in tutti i casi ho sempre detto chi vince veramente un match è quello che a fine serata ha venduto più merchandising poi è chiaro che se sei il parti svantaggiato perché è più difficile vendere la maglietta del cattivo che del buono però ho sempre detto se volete vivere di wrestling è proprio questa cosa che dicevi tu no del ricordo e il face che perde comunque vince nel momento in cui poi finisce lo show e va a fare le foto a firmare le cose a firmare i ricordi e portati a casa la mia foto firmata quindi minimizzando il discorso rendendolo più fango e sudore sempre detto il vero vincitore è quello che alla fine serata vende il vero verissimo vero verissimo poi vi racconto un aneddoto che non sa nessuno perché è accaduto veramente due settimane fa una settimana fa a proposito di mlw tra l'altro e di collaborazioni con l'mw che non credo che faremo più o io perlomeno non farò più per quanto mi riguarda avrei dovuto fare un match diverso da quello che poi ho fatto invece e quindi e invece mi è stato cambiato e solo alcuni di noi sono stati trattati discriminatamente rispetto ad altri ok in quel momento mi dici come l'hai presa mi sarei dovuto alzare andarmene in realtà perché una persona con dei valori si alzava e se ne andava al posto mio e invece la proprio il bene che voglio al promoter che mi ha permesso di lavorare con la mlw perché la persona che crede in me che è del promoter della federazione messicana che ho lottato ho lottato ho fatto comunque il match per il rispetto che avevo verso di lui perché lui crede in me ed è stato lui stesso ingannato tra l'altro a proposito del vincitore che vende merchandising la cosa che mi ha affascinato che io ho avuto il match che non doveva avere quindi in pratica io come se non avessi performato mettiamola così non ho potuto dare quello che i fan sapevano che io potevo dare perché era un'arena che conosceva quello che mi conosceva come lottatore quindi sa cosa posso fare nonostante questo a parte ho venduto più merchandising degli altri ma e quindi già una piccola soddisfazione ma i soldi poi contano il giusto la maggior parte dei fan e di tantissimi bambini mi hanno detto di tutto lo show c'era gente come bandito cioè quindi c'erano lottatori centomila volte più bravi di me premetto e mi hanno detto sei il mio lottatore preferito e fondamentalmente non hanno visto niente di quello che potevo dare ecco questo è quello che ti dà molto di più cioè vale tanto per me per me è valso tanto che loro nonostante io ho perso nonostante non ho potuto dare quello che potevo dare per loro rimanevo comunque il loro preferito perché loro sapevano cosa io potevo dare quello secondo me è quello che è il bello di quello che il breast di ti può dare quelle sono le volte in cui dici beh allora un po' ne vale la pena dai ne valsa la pena ovviamente io lo dico in maniera scherzosa perché poi fare l'autografo la foto è gratis quindi la discriminante è quella no cioè essere piaciuto talmente tanto che ti hanno comprato esatto ma compravano un lottatore che ha fatto un match di cinque minuti contro altri che avevano fatto dei match dove di 30 minuti perché questo è bello quando vedi che nonostante ti fanno perdere e nonostante sei stato trattato in maniera discriminata tanto che nei miei match hanno cantato bullshit bullshit per farvi capire come non si aspettavano perché non mi avevano mai visto sotto quella veste nel senso di perdere o di non o di non essere trattato pari agli altri che ancora peggio non è tanto perdere essere discriminato la parola è proprio quella non lo so per quale motivo forse perché fai parte di rappresenti qualcosa forse non ho palida idea essere discriminato nonostante questo sono venuti al mio tavolo e tantissimi tantissimi fan hanno comprato il mio merchandising tanto che l'ho finito dall'altro non mi aspettavo perché ho detto capirai guarda che match vedranno stasera non vendo niente sono partito anche negativo ero anche arrabbiato ho pensato voglio tornare a casa da mia figlia dico guarda sto sacrificando tre giorni di tapings della mia vita che avrei potuto dedicare a mia figlia per darlo a persone che non meritano in realtà nel mio tempo nel rispetto cioè io là l'ho pensato e presto non meritava la mia persona come essere umano o non meritava i sacrifici che molti di noi non solo io e anche altri lottatori hanno dovuto subire per non so quale motivo politico non ho la più palida idea e invece queste cose ti ridanno un po e come dici tu i veri vincitori poi sono questi nel senso che è bello vedere l'amore dei fan che che ti ridanno nonostante magari non hai non hai reso al meglio quello secondo me è la bellezza insomma poi c'è il distinguo chiaro che se è un ilmarcione che ruba è già difficile vendere una maglietta però eh e sono conscio della eh del buco che c'è nel palloncino del ragionamento tra l'altro io non sono esperto di mlw in realtà ormai si può solo wb però legge manco io leggevo delle cose abbastanza complicate una riguardava anche la parca con i suoi figli eh che hanno assalito il campione hanno affondato i colpi sono stati anche abbastanza feroci verso di lui che ci sono stati insomma magagni nel backstage e quindi mi sembrava quando hai parlato di quella sigla ma sapevo che c'era i fintolini mi sembrava un ambiente un po' vulcanico ed esplosivo di suo ecco a prescindere poi tu ora hai anche questa esperienza che hai vissuto e non quei lottatori ci tengo a precisare eh i lottatori sono stati tutti bravissimi anche perché molti li conoscevo anche da altre parti parlo di altro quindi alliello dirigenziale c'è un trattamento discriminatorio e se non anche razzista mi avviso nei confronti di alcune figure di alcune cose e quindi qua prendo cioè qualche qualche ragazzino italiano fa il tifo per te in quanto italiano ma io la giro anche con questa discriminatoria a che fare col fatto che sei italiano ha molto probabile sicuramente a cacchio davvero nel caso mio sei quasi sempre così dell'essere sempre sottovalutato perché io rappresento perché io mi ostino a rappresentare un qualcosa che loro non vogliono che loro non non perché tu porti un qualcosa di vero cioè come se fosse un insulto per loro a loro vogliono vogliono prenderti per il culo come italiano questa è la realtà se no non uscirebbero certi personaggi in televisione loro piace quello quindi quando tu rappresenti qualcosa e non stai a farti prendere per il culo perché questa è la parola mi spiace doverla di fare questa la parola sei quasi un fastidio perché tu vuoi portare qualcosa di vero invece o comunque qualcosa che perlomeno fa parte della tua cultura veramente non ci stai a essere trattato così o io perlomeno non ci sto a far passare il mio paese per questo perché il mio paese questo non è questo a onore del vero l'hai sempre detto ecco c'è una coerenza assoluta su questo sempre detto sempre detto io ho sempre detto che rifiuterei di farlo non non lo farei mai perché so che io sono proprio perché sono una persona che ha studiato che questa però è la differenza nella vita mi dispiace doverlo dire e ragazzi dico a me lo dicono da piccolo di studiato studiate perché è vero perché quando studi sei una persona intelligente e nessuno ti può mettere piede in testa perché sai come rispondere e sai veramente come muoverti nel mondo ecco perché è importante studiare non perché ho bisogno di sapere chi è pascoli o chi è ugo foscolo che può anche essere utile tra l'altro però perché gli altri non non si permetteranno di metterti piede in testa e quindi io proprio perché so che significa fare il personaggio del mafioso perché ci sono state stragi di mafia e roba simile e persone ci sono morte per questo se non dei parenti hanno sofferto a maggior ragione alcune regioni anche a maggior più di altre non lo farei mai perché sputerei in faccia a queste persone e io rispetto nel mio paese nella storia che ha avuto il mio paese e su queste tragedie non ci giocherei semplicemente per questo come non ne farei dell'altra nessuno fa il bambino col pigiama a righe no mi pare come gimmick ok stesso concetto non bisognerebbe giocare su certe cose a mio avviso perché il wrestling è altro e non si capisce perché rispetto ai film dove invece tutti sanno che lì gioca un personaggio gioca un ruolo ma attenzione mai non ce l'ho con il lottatore di turno che lo fa rispettabilissimo perché quando vengono i messi soldi davanti è difficile dire di no quindi il mio lottatore che fa determinate parti io non ho niente contro a tutto il mio rispetto e la federazione o chi è a capo che propone determinate cose secondo me è sbagliato allora siccome io mi ostino a portare in generale anche soprattutto una cosa che per loro è lontana dal loro concetto di onorare qualcosa secondo me anche questo non aiuta quando ti ostini a portare avanti determinati valori poi in più insomma io non so brock lesnar non so altro due metri quindi neanche questo aiuta e non vieni sponsorizzato da nessuno e quindi anche difficile quando non hai come si dice nessun santo in paradiso è ancora più difficile quindi è normale avere un po più difficoltà poi come in tutte le cose c'è anche invece grande gente tante persone che invece ti rispettano e il rispetto che ho acquisito come sta venendo in spagnolo ganato che ho acquisito con con queste persone l'ho acquisito per perché ci ho avuto a che fare lavorando lottando ma anche magari allenandomi e quello secondo me è importante fondamentalmente il resto un po meno però il fatto di essere l'italiano almeno a me ha sempre portato cose conto perché io non ho mai voluto regalare lo stereotipo facile mai mai non ho mai fatto questo gesto quando mi viene detto commento sempre che non è vero che è così cioè replico sempre sono abbastanza su questa cosa ci perdo del tempo non voglio che passi questo messaggio almeno non da parte mia non passerà mai questo messaggio questa cosa secondo me un po dà fastidio perché nel wrestling più dici di sì più si accondiscendente più se un soldato da un certo punto di vista è ovviamente più facile lavorare no crei meno fastidi tra virgolette prima hai parlato di tua figlia io ogni tanto vedo le foto bellissime che siete in giro a volte la porti anche in palestra a dare un'occhiata e la domanda è al di là di questa brutta esperienza no che ci hai raccontato e dicevi sono stato in giro tre giorni e pensavo di tornare a casa da lei dalla famiglia dagli affetti inizia un po a pesarti che comunque tu devi accettare booking un po in giro dove dove arriva l'ingaggio e con lei magari i tempi di condivisione sono quelli che sono sì sì non ti nego che inizia mi pesa sta cosa infatti a volte rifiuto booking proprio per questo motivo penso sempre che la qualità del tempo che sto investendo che non mi non ti ridà più nessuno indietro fondamentalmente perché gli anni non te ridà più nessuno indietro e le persone con cui fondamentalmente non condividi del tempo non lo potrai recuperare l'hai perso a volte guardo sempre se il andare a lottare in quel posto vale la pena tutto questo se vale la pena vado se non vale più la pena non vado sono arrivato anche a questo punto è perché vedo che anche atleti wwe tipo e gestice per dirne una comunque hanno detto io ho dei figli questo è l'ultimo contratto poi sai possono sempre cambiare idea però hanno detto io a un certo punto voglio stare vicino a loro cioè chiaro lui ha avuto una carriera molto importante giappone wwe ha una sicurezza economica che gli basterà per tutta la vita però a un certo punto riescono a scindere le cose io però ti vedo come un passionario cioè ti vedo simile a me cioè ti vedo come uno che non dico non si arrende perché è sbagliato ti vedo come uno che non riesce a non andare avanti quindi ti ho fatto questa domanda perché ho come l'impressione che sarà difficile dire un domani rallento tanto finché ti senti in ottima efficienza fisica oppure ho sbagliato l'analisi beh no sicuramente si fa difficoltà quando 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 ti manca quando quando ami quando ami fai difficoltà a smettere d'amare da un momento all'altro è sempre quello il concetto però poi secondo me arriverà un punto qualcuno mi chiede sempre ma qua ma lotterai sempre tutta la vita che ne stai le classiche domande fino a che tallotti e io ho sempre detto che lotterò finché avrà senso lottare a livello cioè finché avrò il rispetto del wrestling se io a 40 anni starò ancora nelle indie o mi ritirerò molto prima personalmente perché perché arriva a un certo punto dove diventerei patetico a me stesso io patetico non voglio diventare solo perché mi piace fare wrestling o amo quello che faccio l'amore deve essere anche sempre ricambiato non è che tutta la vita ami una persona non ti ama ti tradisce tutta la vita tu ami a prescindere se no veramente c'è però si si fa fatica si fa fatica quindi poi sono abbastanza rosicone si direbbe da noi rosicone nel senso che non non ci starei a dare soddisfazioni a chi vuole che invece ti ritiri o perlomeno finisci o che ti vada male quindi a queste persone non devi dare soddisfazione devi continuare in realtà a perseverare nell'obiettivo perché tante persone vorrebbero che a te andasse male a chiudiamo con una serie di domande che ho salvato e che esulano dagli argomenti che abbiamo trattato sin qui quindi facciamo anche un po' di bungee jumping secondo te si è raggiunta la parità di genere tra atleti uomini e donne nel wrestling sì e no è una domanda molto complicata velocemente ti dico sì sicuramente più di prima no per quanto riguarda rispetto in alcune circostanze allora andiamo avanti stai ancora ti stai ancora allenando ti stai allenando da afa o hai altri giri attualmente no da fa la scuola non c'è più è chiusa però io mi alleno da altre parti comunque questo non l'avevo c'è chiuso la scuola quando si dice la fortuna però non l'avevo mica sentita dopo il covid la scuola di afa ha chiuso io ho cominciato ad allenare da altre parti e ovviamente poi ho continuato ad allenarmi io poi molto spesso ci sono degli atleti ex WWE o comunque persone conosciute che hanno dei ring e che ti permettono di allenarti con loro ma non sono scuole ti metti d'accordo con loro e ti alleni e hanno chiuso tante palestre o tante scuole in america che tu sappia con il covid o è un cioè una cosa endemica e quindi non più di una soglia di preoccupazione ecco no non è una cosa però un po di federazioni si hanno avuto dei problemi devo ammettere è perché questa mi è proprio sfuggita che non ci fosse più la scuola di afo forse non l'ho registrata nella testa con no vabbè è successo proprio durante la pandemia quindi poi all'inizio un'altra federazione gli ha dato il lascia parsare per poter avere dei giorni e fare a fare allenare noi i ragazzi in un'altra scuola ho questo accordo credo sia saltato tra di loro quindi molti di noi sono rimasti ad allenare in quest'altra scuola e da altre parti per conto loro ho capito allora scorpio in juma vediamo tutte le domande voleva chiedere a di tre se c'è un ring attire a cui è particolarmente legato iniziamo da questa sì certo l'ultimo in realtà sono legato un po a tutti quelli che ho fatto ultimamente negli anni per i dettagli che ho messo nelle attire dalla firma di mia figlia a per esempio sai l'uomo vitruviano a dei messaggi anche di storia dell'arte per esempio sull'ultima attire c'è ci sono le statue che ci sono di san pietro e san paolo a roma che sono i padroni di roma eh tanti dettagli della nostra storia della nostra arte che si sono legato però in particolarmente all'ultima perché c'è innanzitutto il mio cognome della mia famiglia e poi c'è il lo stemma della casata dei denti cetacadia quindi è lo stemma della mia famiglia a casa un libro della famiglia della nobiltà italiana e quello è lo stemma ufficiale della mia famiglia quindi ho voluto rendergli omaggio mettendolo sulla mia attire quindi sono sono particolarmente legato perché rappresenta veramente la mia famiglia tra l'altro il tuo personaggio per quanto sembri apparentemente banale sottolineo sembri si presta a tante cose interessanti cioè è chiaro stiamo parlando sulla mia fantasia di investimenti di un certo tipo però fare dei video promozionali dove si richiama l'antica roma dove si richiamano i monumenti storici dove si richiamano gli inventori italiani le eccellenze italiane ma andando a prendere proprio quelle legate alla storicità di roma che tu rappresenti ma è una figata cioè veramente hai una letteratura infinita ma anche questo che tu racconti cioè il libro con la storia quindi la genealogia no della discendenza cioè fare uno che dice una volta voi non eravate nobili eravate miei schiavi no il mio avo ti ha sconfitto al colo cioè puoi veramente inventarti di tutto ed è un peccato che non vedano magari quelle federazioni che hanno anche la possibilità di investire questa possibilità cioè creare una vicinanza tra la mitologia greca e la mitologia romana per portarle nel wrestling modernizzandole su un atleta che c'è già cioè mi pare che ho visto un video che avevi fatto tempo fa che cercava di unire queste cose ti ho anche fatto i complimenti perché è un canale comunicativo che pochi possono cavalcare e pochi possono cavalcare in maniera genuina perché è loro lo hanno vissuto quindi mi spiace che non si veda questo spiraglio ma si voglia a tutti i costi l'italiano pizza e mandolino ma perché perché devi essere una persona acculturata per mettere per mettere la venere di boccelli sulla tire non è che tutti sanno chi è cioè io su una tire ho il davide di don di ho il davide di michelangelo su una tire ho l'uomo vitruviano mi commesso non ho messo mica ora non mi viene il nome oddio la monnalisa che sta a louvre cioè anche nel mondo e cioè allora oppure che ne so sapere che sono le statue di san pietro e paolo sulla mia tire perché sono i patroni di roma perché il 29 giugno san pietro e paolo devi essere una persona acculturata italiana per sapere questa cosa chi è italiano io spero sempre che apprezzi questa cosa perché io ricerco queste cose e le metto sulla mia tire ci metto un po del personale e non per questo dico a volte viene banalizzata un po la gimmick da chi non capisce ma in realtà non faccio né il gladiatore né luna di simile ho fatto tire dedicata ai consoli ho fatto tire dedicata ai centurioni ce ne ho fatte tante di attire una nera c'è c'è tanto a livello di storia italiana e il fatto di dire principe a parte perché poi effettivamente sono di origine nobile quindi in realtà qualcuno potrei dire veramente lo potrei essere ma non mi permetto ma perché nel senso di rappresentante di una cultura fondamentalmente principe nel senso una persona che in prima linea rappresenta e difende una cultura non principe perché voglio fare il principe con la corona e carlo terzo così non me ne frega niente non sono principe da quel punto di vista né voglio fare il gladiatore perché mi fa comodo pubblicizzare quel tipo di roma non mi interessa e mi piace molto di più il discorso della storia dell'arte e tutto quello che noi come cultura italiana abbiamo abbiamo portato infatti detto le mie attire ci sono anche attire di personaggi che non sono di roma perché abbiamo secondo me siamo numeri uno in tanti settori e noi stessi delle volte ce lo dimentichiamo o meglio lo siamo in tutti i settori ma non nel wrestling e nel wrestling non ho mai capito per quale motivo questa cosa non è stata mai sottolineata da parte nostra secondo me è per questo motivo storico gli italiani sono stati tra i popoli che più hanno raggiunto l'america per colonizzarla scappavano dalla fame dalla guerra dalle malattie dall'indigenza e via dicendo e il wrestling ha sempre raccolto in questo campo chiamiamolo di scarsa cultura e di ignoranza ovviamente diciamolo con benignità perché è un ignorante che non ha potuto studiare eccetera non è nemmeno una sua scelta mio padre aveva la quinta elementare ma non poteva studiare erano poveri costava andare a scuola alle medie tempi no ma non è detto con denigrazione ignoranza nel senso di ignocere nel termine latino esatto di non conoscere è finita la quinta elementare è andato a lavorare no e il popolo del wrestling cioè quello che ha tenuto a galla il wrestling sono proprio le minoranze di immigrati tra cui gli italiani in larghissima parte costa est quindi dal main a scendere che volevano un eroe locale che significasse per loro la possibilità di riscatto quindi il classico bruno san martino prima ancora il primo carnera che dal pugilato passava al wrestling però i soldi li facevano su questa copolazione con il wrestling e il non americano una a parte quegli anni lì in cui dovevi targettizzare il popolo ignorante poi non ce n'era più la necessità perché almeno il mainstream è passato al real american quindi all'ipernazionalismo e tutto il resto che non era americano è diventato proposta per una audience con una scolarità bassa e la scolarità bassa natia chiamiamola o derivata capisce gli stereotipi e di certo non capisce le opere di leonardo il botticelli piuttosto che il davide o le altre cose quindi ridurre semplificare ma a me non dà fastidio neanche solo quello è una domanda che hanno fatto a bel tasarino nella live con te e che ho detto adesso che ho fatto cosa ma questa cosa la devo dire perché non è stato capito il concetto il fastidio non è la pizza non è la cosa che viene rappresentata il fastidio è che lo fa una persona che non è italiana semplicemente quello il fastidio perché se domani mattina lo fa mambo non mi darebbe fastidio perché mambo lo sa cosa è la pizza è italiano cazzo a me mi dà fastidio che lo fa una persona che non c'entra niente come se domani mi resto da giapponese io che cazzo c'entro si vede che non so giapponese lo sanno tutti che non so giapponese perché devo fare giapponese a me questa cosa mi manda in bestia non mi manda in bestia il fatto che ci sia la pizza che ci sia il mafioso che che già alcune cose sono fastidiose ma non mi dà fastidio neanche quello se lo facesse una persona veramente italiana io non mi capacito del perché solo con la nostra cultura si cercano secondo me lo fanno apposta a questo punto arrivo che se lo fanno apposta si cerca apposta una persona che non lo è indiani sono tutti indiani giapponesi sono tutti giapponesi davvero ditemi un'altra cultura che sono per finta che sono nati in un altro posto nessuna non ne trovate nessuna i messicani sono tutti i messicani non prenderebbero mai in giro messicani loro stessi non farebbero mai una gimmick che li prende in giro per il rispetto che hanno della luce libre e del loro e della loro cultura purtroppo noi finché beviamo come dei dei stupidi e ci facciamo prende in giro il problema non è sempre di chi propone le cose di chi le accetta problema quando vedono quello che gira la pizza santino marella c'è gente ancora oggi pensa che santino marella italiano o nunzio siano italiani sveglia ragazzi non sono italiani andate a vedere se parlano una parola italiana andate a vedere se hanno un passaporto italiano andate a vedere se capiscono quello che voi avete studiato a scuola chiedete queste cose se conoscono chi è leopardi non sanno minimamente chi è non sanno minimamente che vuol dire vivere dalla dal trentino alto adige alla punta della sicilia quello da fastidio da fastidio che persone si appropriano di una cultura senza farne parte come se domani io faccio la persona l'ebreo con le trecce ortodosse ma io non lo sono perché mi sto appropriando di una religione che non è la mia perché faccio il giapponese per finta perché faccio il messicano col cappello dei despidi gonzalez per finta io non sono messicano perché faccio il colombiano escobar e non sono colombiano questo non avviene nessuna cultura avviene solo ed esclusivamente con il nostro cibo e con noi e noi ci facciamo proporre queste cose noi siamo contenti io sento gente che tifa per queste persone quando bisognerebbe sputarli in faccia a lui che lo rappresenta come si permette di fare il mafioso di fare l'italiano quando lui non sa neanche una parola in italiano e le poche che sa sono dette male in dialetto se lo fa eisner un altro discorso eisner è italiano e questa è una lancia da favore in favore ad eisner perché fabian eisner non fa queste cose e bisogna stringergli la mano a fabian eisner indipendentemente da poi da quello che uno può pensare del lottatore perlomeno eisner non si mette in ridicolo e quindi bisogna bisogna semplicemente dire meno male almeno non fa ridicolo ed è italiano oggi giovanni vinci che hai detto per fare l'avvocato del diavolo ma molto fragile c'è stato qualche esempio che è sfuggito alla ronda di parole che hai messo in campo però effettivamente sì sono pochi cioè mi ricordo i canadesi che ballavano come scemi oppure jinder mahal che non è che è di origine indiana ma ha rappresentato l'india però credo che l'avesse vista forse in vacanza oppure i messicani che in wb fanno i mexico se quindi fanno i giardinieri ignoranti d'altronde erano periodi in cui bisognava accettare anche certi ruoli però in effetti pensandoci bene l'italiano dopo i tempi di bruno san martino non ha mai avuto una proposta major seria è sempre stato quello lì è sempre stato il semplice otto ignorante non italiano interpretato da un non italiano di seconda qualcuno chiede qualcuno chiede toni d'angelo allora ragazzi italo americano una cosa essere italiani è un'altra a livello governativo vuol dire una cosa diversa essere italo americano non vuol dire nulla non significa niente una persona italo americana ve lo spiego all'italo governativo una persona che ha due passaporti semplicemente cioè io nasco in italia cittadino italiano mi trasferisco negli stati uniti prendo la cittadinanza americana divento italo americano quello vuol dire una persona che nasce negli stati uniti da genitori americani che non ha il tuo passaporto che non parla la tua lingua è semplicemente americano che poi abbia delle origini lontane di quando venivano i bisnonni e allora sono tutti italiani all'andiamo in argentina e prendiamoci maradona prendiamoci messi perché sono tutti di origine italiana prendiamoci di tutti facciamoli gioco tutti con noi abbiamo vinto il campionato del mondo per 20 anni con quella gente facciamo così johnson italiano vogliamo dire johnson italiano ragazzi è un lottatore americano che poi abbia origini perché siamo un paese di immigranti è un altro discorso ma a livello legale non lo puoi considerare un italiano a livello burocratico va all'aeroporto passa la fila non dei comunitari europei molto semplicemente molto semplicemente per passare nella fila all'aeroporto dei comunitari europei deve avere il passaporto italiano ad essere un cittadino punto molto semplice c'è da qua non si scappa e quindi non è il giudizio che ho io è un dato di fatto della realtà punto che poi piaccia non piaccia mi piace che ci sia il mafioso va benissimo perfetto certo non andiamo a prenderlo all'altare della patria col garoselli pensando che ci sta rappresentando per me una follia questa cosa perché quella persona sta usufruendo di una nostra cosa prendendola per il culo tra l'altro usufruendola senza portarvi rispetto mancandovi di rispetto è proprio il contrario quindi quando ci arriverà io lo dico senza che non ho peso la lingua e soprattutto perché per me i valori vengono sempre prima nella vita chi non è d'accordo con me non è d'accordo con i fatti burocratici degli stati punto mia figlia è italo colombiana può inventarsi quello che vuole sarà sempre italo colombiana e da là non se ne esce ci siamo cioè è così queste cose non sono sono fatti dati alla mano punto questo tutto qua sul toni d'angelo non è sulla persona non lo conosco bravissima persona come marella tutti quello che vogliamo possono essere anche gli esperti di resti in più forti del mondo può essere anche antoni nochi domani mattina il personaggio che lui porta è una cosa che lui non è perché è un canadese che poi abbia delle origini genitori che lo possa aver fatto di buona iniziativa poverino io l'ho anche conosciuto è una brava persona santino marella l'ha fatto anche con buone intenzioni nelle buone intenzioni la cosa è riuscita male bisogna giudicare l'oggettività del fatto se poi qualcuno si è sentito rappresentato da johnny stamboli e da da big vito e da nunzio beh io che sono nato a roma nella mia città nato e cresciuto che mi sono trasferito qua da solo non perché ci sono venuti i miei genitori a 24 e 25 anni par io non mi sono sentito mai 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 rappresentato neanche un secondo da tutte queste persone perché non rappresentano ciò che mi hanno insegnato nella mia città e nel mio stato punto siamo paradossalmente rappresentati meglio nei manga nei fumetti mettiamola così senti daniele siamo in chiusura sì abbiamo toccato tanti argomenti ho visto che quest'ultimo come al solito ti accalora parecchio perché ci tieni particolarmente a chiarire la tua posizione di modo che sia comprensibile a tutti però vorrei chiudere con una nota insomma un po più dolce quindi raccontaci non so qualcosa di recente che ti è capitato di di bello di condivisibile di di allegro di divertente insomma giusto per dare un tono è un arcobaleno finale dopo la pioggia temporale ci vuole un po di arcobaleno però mi dirà uno spunto perché cose allegri possono succedere sempre insomma mi dirà abbastanza uno spunto dammi uno spunto da che punto di vista prima parlavamo dei costumi non lo so c'è qualcosa di strano legato ai costumi che è accaduto ad esempio l'amico di prima ci chiedeva la seconda cosa era che fine fanno i costumi i pezzi che lasci cioè te li danno appena finisce il match te li portano nel backstage vengono sorvegliati cioè in effetti si faceva delle domande sembra stupida ma in realtà te la lascia te la lascia lì tu combatti passa via uno dice toh ma che bella roba me la porto via a casa non c'è nessuno che guarda me la me la riportano nel backstage subito ma anche perché sono a tale che costano mille dollari quindi me la devono riportare subito direi anche guarda ben tazzati da un suggerimento se ti mancano di mortgomeri no vabbè ma è perché degrado perché con lui che è stato anche sfortunato perché è venuto in uno show come in alabama e ritornare non voleva farsi nove ore di macchina e ha preferito di vabbè facciamoci un paio di ore dormiamo e la mattina riprendiamo io invece di solito faccio tutta una tirata e faccio nove ore dopo il match va bene ci fermiamo ma ci fermiamo in un posto non conoscendo la città non conoscendo nulla è veramente terribile terribile solo che mentre io magari negli stati uniti sono un po più abituato al degrado che ci può capitare in determinati motel sporchi sozzi criminalità sai poi girando un po gli stati uniti sei un po più abituato cioè come nei film in quel caso come nei film come nei film esattamente di degrado criminalità addirittura addirittura alla c'era il vetro antiproiettile con quando c'è da là ti rendi conto macchine distrutte fuori da ti rendi conto che diciamo l'albergo che preso non è in una zona ottimale ecco mettiamola così però mentre chi vive qui a livello estetico è abituato a queste cose non è che sia così dappertutto però fanno meno effetto perché con gli anni ti ci abitui a noi ci fa ancora quell'effetto da film come hai detto tu luca giustamente diceva dove siamo capitati fatto sta che noi avevamo una prenotazione che però non risultava perché perché le persone all'interno dell'albergo avevano occupato l'albergo una cosa fantascientifica quindi una prenotazione che c'era esistente ma che il signore della recepio non poteva darti la stanza non perché non te la volesse dare o la perlantazione non risultava semplicemente perché non era in grado di poter cacciare le persone che erano già all'interno di quella stanza quindi una situazione paradossale alle tre di mattina e lì a quel punto non sono stati all'inizio è stato detto di tutto in italiano nel senso c'è stato un diverbio perché per rabbia però poi a un certo punto io ho detto ah beh lui cerchiamone un altro nel senso inutile ormai inutile discutere non esci nel senso non te la dà la stanza cerchiamone un altro però effettivamente era abbastanza paradossale questa scena di è veramente da film sai classico modello c'è la prostituta eh l'odore di 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 sostanze illecite eh i criminali che scendono quello col vetro antiproiettile che si chiude le macchine fuori distrutte mancano una ruota sai c'è cose dici ma oddio aspetta un attimo lo so capitato in che albergo so capitato è abbastanza divertente mo ci ridi ma è abbastanza divertente là per là ci siamo guardati speriamo che non ci so scarafaggio dell'altro nella stanza perché poi qua in america accade anche questo hotel da incubo sì è una cosa simile esatto e va bene dai abbiamo chiuso con questa storia un po' fuori dall'ordinario perché ci ha fatto fare un giro no siamo partiti quasi in simbiosi con questa avventura statunitense di bel tasar abbiamo chiuso con questo albergo ai limiti della fantascienza ma anche il frank raccontava dalle cose simili o anche l'arbitro johnny puttini mi pare a parte che lui una volta dormiva sui divani sai quando ti affittano il divano mi raccontava che era aveva dovuto scappare da una casa perché era affitto a casa di un iper militarista con armi da tutte le parti e non si sentiva al sicuro no qua qua succedono di tutto proprio perché l'america è è così è così è bello anche per questo e per noi sono tutti scenari veramente da film però non è che perché sono da film perché qui veramente così è solo che per noi risulta una cosa quasi cinematografica e all'estetica diciamo che gioca un occhio molto più di impatto devo ammettere poi magari nella realtà è anche meno forte di altre realtà mondiali però all'occhio certe zone certe circostanze devo ammettere le per lì dici oddio santo ma anche con di storie così anche con con King Danza insomma devo ammettere le storie così ne sono successe ecco di situazioni abbastanza particolari dove ho pensato come ci sono finito qui nella mia vita come ci sono arrivato fino a sto punto la domanda me la devo fare per il wrestling delle volte l'ho pensato guarda sono per il wrestling guarda sono dovuto capitare delle volte l'ho pensato sempre in maniera scherzosa solo WB poi non ha continuato la serie ma sulle disavventure di viaggio ci hanno fatto due libri e avrebbero potuto andare avanti penso all'infinito quindi questo penso sia un messaggio in codice per te quindi lo evidenzio bravo bravo il grillo malefico dice una perché è una persona evidentemente che conosce le mie mosse io quando nel senso che io quando colpisco un lottatore gli dico in italiano arrivederci cioè finita ma mi è venuto sempre mi è venuto più di istintivo di dirlo come di ciao a te a casa e io dico se ma io chi segue il mio match sul mio canale quando andando a vedere io dico un sacco di cose parlo tantissimo durante il match nei confronti dei lottatori dico tantissime cose in italiano anche divertente anche divertente beh la fonia la fonia italiana comunque la la lessicalità che comunque si riconosce piace ma sai pure perché io lo dico perché nella realtà in certe situazioni reagiresti parlando la tua lingua nativa quindi per esempio quando schivo un colpo dico no ti piacerebbe perché nella realtà direi così no cioè ho una reazione cerco di portare una reazione realistica in un contesto di lotta perché in un contesto nella realtà in determinate situazioni reagiresti rispondendo come dicevi prima con delle espressioni facciali o con dei con dei vocaboli con delle cose ovviamente che ti senti tue sono tue della tua della tua lingua ecco e quindi insomma danno anche un po più di realtà magari al breast tipo durante il vecchio dico vieni vieni dico proprio così poi aggiungo un epiteto che non posso ripetere però però dico questo perché secondo me da real realisticità all'ottato credo e anche se magari non ci fa caso nessuno però magari con le due tre persone sentono una persona che dice nella sua lingua in un tono molto convinto qualcosa ipotizza che sia concentrato nell'ottato perfetto con questa riflessione siamo arrivati davvero alla fine quindi chat ringraziate daniele non spammando troppo emoticon perché dopo la quinta il moderatore vi picchia ovviamente simulando vi banna dieci secondi ma se la live vi è piaciuta dai un gesto di apprezzamento è un gesto di apprezzamento per il tempo che ci ha dedicato per le risposte a cui ha dato una replica e anche per le varie opinioni che ha indiviso con noi e vi assicuro che molte delle sue non sono così facili da esternare perché insomma tanti sono diplomatici no stiamo un po a camminare sul filo daniele no lo conosce ormai vi dice quello che è in mente a me è piaciuto particolarmente quella riflessione sul divertirsi sul sacrificio sul cercare di trovare un equilibrio che non è mai facile da da predisporre perché credo che magari in tanti se non vi ci rispecchiate ora magari arriverete a rispecchiarvi col tempo soprattutto se troverete una passione molto forte alla quale dedicare tutto quello che è il vostro percorso di vita se vi capiterà di farlo probabilmente arriverete ad un istante in cui farete i conti con queste riflessioni grazie a tutti